Nei mesi scorsi il Vescovo Armando Trasarti ha reso pubblica la nuova organizzazione dei parroci nel territorio della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. Trasarti, nella lettera, ringrazia il Consiglio Episcopale per l'aiuto, come anche i vicari foranei per la collaborazione ed infine tutti i sacerdoti che hanno dato la loro disponibilità ai trasferimenti, permettendo di comporre in modo armonico il quadro articolato della presenza dei preti sul territorio. A partire dal prossimo 1 settembre, dunque, quattro parroci andranno in pensione e altri 11 prenderanno le redini delle varie realtà parrocchiali sparse nella diocesi. Oggi, invece, sono state rese pubbliche le date dell'insediamento. Domenica 30 agosto, alle ore 10.30, entrerà Don Ivan Bellomari nella parrocchia di San Cesario a Fano. Il 6 settembre, alle 11.15, Don Luciano Gattei entrerà a San Michele al Fiume. Alle ore 18, di mercoledì 9 settembre, Don Filippo Fratelloni entrerà nella parrocchia di Frontone. Don Michele Giardini, sabato 12 settembre, alle ore 18, entrerà nella parrocchia di Mondavio. Il 13 settembre, alle 16.30, Don Mirco Ambrosini entrerà a Barchi di Terre Roveresche. Alle ore 18.30, di mercoledì 16 settembre, sempre Don Filippo Fratelloni entrerà anche nella parrocchia di Serra Sant'Abbondio. Sabato 19 settembre, Don Steven Carboni, alle 20.30, entrerà in servizio nelle parrocchie di Fossombrone e San Martino. Infine, il 20 settembre, alle ore 18, Don Diego Fascinetti entrerà nelle parrocchie di Cagli e Santa Maria Assunta. Tutte le date e gli orari sono disponibili sul nostro sito occhioallanotizia.it